Sintomi viene poi chiamato sintomi Quindi Iekho dà questa visione di poter vedere ciò che una persona può creare nel giorno dopo quando si sveglierà E le cose che si riesce a vedere nell'oscurità sono i vuori Qui la luna, le stelle, le idee che vengono in mente, questo è i vuori Si ha proprio questa sensazione di spazio in espansione E Odì invece è il contrario di vuori, è la contrazione La saggezza proprio della terra, le radici degli alberi che sono, si potorgono e si stringono sotto la terra Quale sarà l'albero più grande? Sarò io l'albero più grande? E questi quattro insieme formano la creazione della testa Quello che viene chiamato orì E orì si potrebbe dire che è la vostra testa se questa fosse consapevole Oppure il se superiore che potrebbe trovarsi qui E questi quattro insieme formano la creazione a questo livello Sì ovviamente durante la giornata ripasseremo, si riparlerà di questi quattro Ci sono delle idee che vi vengono in mente su questo? Io ho una domanda All'inizio hai detto che questi 16 architettipi di base da tantissimi secoli hanno una stretta relazione con le lettere dell'alfabeto e bai Vorrei sapere se sono in ordine, cioè se Orbe corrisponde Se Orbe è Aleph, Oieco è Beth, Aleph, Beth, Gimel, Daleth eccetera O se sono sparsi Perché mi sembra che al nove tu abbia detto che corrisponde al Gimel No, c'è cinque lettere che sono testi Cinque lettere sono testimoni Sì, perché sei 16 nelle lettere, non sei 16 di fila E' possibile avere lo specchietto di comparazione delle lettere ebraiche con lui? Sì, dovrò spedire un'ora meglio con questi paragoni Sì, non è così importante Sì, non è così importante Dopo si può inviare il pretene Ma c'è stata un po' di resistenza quando Mosè, oppure Mosè, ha scelto di sposare un nana E' una donna nera E suo padre veniva chiamato Oshetohan Che è l'odù di Eshu Sì, ci sono molti paragoni che vanno indietro di mille anni Eshu è una divinità che molti cristiani si riferiscono con il nome di diavolo Eshu è anche un nome, come veniva chiamato, Gesù nella lingua aramaica originale Sì, questo G di Gesù è proprio un'invenzione degli ultimi due mila anni Non giocavo Ah, due cento anni Duecento anni Nella musica di Handel è Gesù, questo G è molto soffice Sì, praticamente il salvatore cristiano come il diavolo cristiano sono le stesse parole E tutto il resto che si trova nella mente umana è ugualmente paradossale Sì, potete prendere qualsiasi altro esempio che volete nell'esperienza umana che ci sarà comunque sempre questo paradosso Eshu è un messaggero Eshu è un messaggero Nel sciamanesimo nigeriano Eshu è un messaggero In portoghese poi se c'è una lavagna lo scrivo è E-X-U come dicono i brasiliani oppure E-I-S-U Sì, E-I-S-U in Yoruba Sì, metto anche una S con un punto sotto come in sloveno c'è la C'è la C'è esconfine Eshu è un messaggero fra tutte le cose Sì, eshu è trattata con tutte e tutte le cose con tutti e tutte le cose Come si dice os retention Os retention Com'è os retention Os retention Io sono in l'intrazione all'infuori e ottura dentro che è proprio il che è lo duc di Eshù e il nome del suocero di Mosè in Hebrew writings to this day si in ebraico anche oggi viene chiamato così e questo schema di base che vedrete su tutti i tipi di sciamonesimo come questo gruppo di quadri che c'è anche nel fra i monaci del Tibet il buddismo del tibetano come come le stagioni degli indiani nativi amén Grazie a tutti